Nuovo record di positivi oggi in Abruzzo. Sono 5.479 i nuovi casi di Covid riscontrati, di età compresa tra un mese e 103 anni. 4.450 sono emersi da test antigenico. In totale sono stati eseguiti 7.422 tamponi molecolari, 37.981 test antigenici. Il tasso di positività è pari al 12%. I nuovi positivi sono residenti in 976 in provincia dell'Aquila, 1.617 in quella di Chieti, 1.123 in quella di Pescara, 1.506 in quella di Teramo, 108 di fuori regione, 148 per cui sono in corso accertamenti circa la provenienza. 4 le persone decedute, di età compresa tra 36 e 87 anni, una in provincia dell'Aquila, due in provincia di Pescara e uno risalente ai giorni scorsi. In aumento anche i ricoveri sono 282 in area medica, più 13 rispetto a ieri, 27 in terapia intensiva, più 2 rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono 192 dimessi guariti, mentre aumentano di 5.282 unitagli attualmente positivi in Abruzzo, che superano i 44.000 casi. Si tiene peraltro questa mattina dinanzi all'ospedale Renzetti di Lanciano, convocato dai sindacati Nursing, Nursing Up e CGL, per protestare contro lo spostamento di infermieri e operatori sociosanitari dagli ospedali di Lanciano e di Ortona a Chieti per aprire un reparto Covid. Si tratta di 17 infermieri e 10 OS, la cui assenza ha determinato l'accorpamento di reparti, sia al Renzetti, sia al Bernabeo di Ortona, dove le attività chirurgiche sono interrotte. Quanto accade non va bene, ha dichiarato il sindaco di Lanciano, Filippo Paolini, presente al sit-in. Non si può chiudere un ospedale per mantenere una struttura Covid. Ho chiesto un incontro all'assessore regionale Verì, assumano altre persone con fondi Covid. Non si è fatta attendere la risposta del direttore sanitario della ASL di Lanciano Vastochieti, Angelo Muraglia. Nessuna spogliazione, ma necessità di aumentare i posti letto Covid a fronte della crescita dei casi. Non esistono, prosegue, realtà che prendono e altre che perdono, perché l'azienda è unica e le energie vengono convogliate laddove c'è bisogno. Il direttore sanitario fa presente che dall'inizio della pandemia sono stati preservati completamente il Renzetti e il Bernabeo, dove non sono state riconvertite alcune unità operative per far fronte alla crescente domanda di ricoveri concentrati su Chieti e Vasto per la presenza dei reparti di malattie infettive. A seguito dell'aumento di casi, l'unità di crisi ha varato ora un piano di riconversione di pneumologia e geriatria dell'ospitale di Chieti in reparti Covid.